Oltre 5.000 persone in piazza del Popolo a Pesaro per l'accensione della Bete, alto 15 metri e illuminato da oltre 100.000 luci a LED. Un pomeriggio magico guidato da Massimiliano Santini, il coordinatore degli eventi del Comune di Pesaro, ha espresso grande soddisfazione per una piazza agremita di cittadini e persone provenienti da fuori città. Oggi è stata una bellissima giornata, abbiamo visto quante persone in piazza hanno riempito questo momento, questo momento che ogni anno diventa sempre più ricco e sempre più partecipato. Pesaro si appresta a diventare capitale italiano della cultura, è un obiettivo veramente importante che il prossimo anno darà alla nostra città la possibilità di farsi conoscere in tutto il mondo. Abbiamo voluto per questo creare un Natale ancora più partecipato, ancora più grande, ancora più ricco di appuntamenti. Qui a Pesaro in 40 giorni si succederanno più di 100 appuntamenti per famiglie e bambini di qualsiasi tipo da livello culturale e diciamo ludico, appuntamenti che possono comunque sia coinvolgere le persone e soprattutto anche far respirare e far lavorare il centro storico alla città di Pesaro. Una cerimonia quest'anno dedicata al tema della pace, narrato dalle voci del Coro del Grillo d'Oro e rappresentato dalla Maxi Bandiera della Pace, una coperta di 300 metri quadri che ha rivestito il palco a forma di cupola. È stata una bellissima accensione che abbiamo voluto dedicare alla pace, alla pace nel mondo e ho visto veramente tante persone diciamo in qualche modo portarsi via queste parole a casa, le parole che hanno messo in campo i bambini del Grillo d'Oro. È ufficialmente iniziato il Natale da Capitale e con numeri straordinari Pesaro nel cuore si conferma uno degli eventi più attesi dell'anno. È molto piacevole, è stato meraviglioso vedere l'accensione e i palloncini, meraviglioso, Coro bravissimo, stavo contento. È molto emozionante, molto, da brividi come dire, perché poi anche i bambini che cantano, l'albero è sempre molto bello. Poi quest'anno hanno aggiunto questi palloni con le colombe della pace appunto per essere comunque tutti uniti per la pace nel mondo. Noi è il primo anno che veniamo, ma devo dire veramente un bel albero, un bell'atmosfera, al prossimo anno torneremo di sicuro. Bellissimo e poi sono qui a vedere mia mamma che canta nel coro, quindi è un'emozione speciale, bello. E poi tantissima gente. Mamma mia, una cosa così veramente troppo bello, bellissimo. Si riunisce proprio per questo.